Bentornati al nostro appuntamento. Oggi prima di iniziare l'argomento della giornata un'informazione di servizio. Da questa settimana è disponibile la certificazione unica, quello che comunemente viene chiamato CUD, per tutti i cittadini che hanno avuto prestazioni dall'Inps. La prossima settimana vedremo come fare per poterla avere. Oggi parliamo del mondo dell'agricoltura, mondo dell'agricoltura a cui l'Inps è vicina, ricordo che anche quest'anno saremo alla fiera di Lanciano con la fiera internazionale dell'agricoltura che si tiene dal 5 al 7 aprile con un nostro stand dove potrà essere approfondita ogni curiosità nel mondo previdenziale. Oggi parliamo della disoccupazione agricola. Che cos'è la disoccupazione agricola? Intanto è un'indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli enchi nominativi dei lavoratori agricoli. Quindi spetta operai agricoli, piccoli coloni, compartecipanti familiari. Vediamo invece a chi non spetta. Non spetta lavoratori che soprattutto presentano la domanda oltre il termine previsto, perché la disoccupazione agricola ha un termine ben preciso. Ne parliamo questa settimana perché il termine scade il 1 aprile. Quindi i lavoratori che dovessero presentare oltre questo termine la domanda non avrebbero la concessione della disoccupazione agricola. Quindi non spetta neanche ai pensionati, non spetta a quelli che si dimettono volontariamente e non spetta a coloro che sono extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Quindi non spetta la disoccupazione agricola. Vediamo quali sono i requisiti. I requisiti sono, abbiamo detto, l'iscrizione negli enchi nominativi di lavoratori agricoli per l'anno a cui si riferisce la domanda. Ricordo che la domanda che si presenta quest'anno è riferita all'anno 2018, cioè l'anno scorso. Devono essere almeno due anni di iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio 2018-2017, quindi l'anno a cui si riferisce è quello precedente. Quindi 102 giornate, questo è l'altro elemento importante. Quando si presenta? Abbiamo detto che va presentata entro un termine perentorio, si poteva presentare dal primo gennaio ma scade il primo aprile. Scadeva il 31 marzo ma è stata prorogata al primo giorno lavorativo successivo, visto che il 31 marzo è domenica. Quindi è molto importante per i nostri ascoltatori che avessero diritto a questa prestazione presentarla perché quelle successive al primo aprile non possono essere prese in considerazione. Come si fa a presentare queste domande? Oramai chi ci ascolta stabilmente dovrebbe sapere che si possono presentare direttamente online, quindi con il PIN del cittadino o lo SPID o si possono presentare presso i nostri partner istituzionali che sono appunto i patronati e in questo modo è possibile appunto presentare questa domanda di prestazione. Grazie e arrivederci.